Con un gol di Rizzo a sei minuti dalla fine, la Rossanese riesce a venire a capo dell'incontro contro la Promo Sport e conquistare così, anche per il fatto che il Belvedere è stato fermato dal maltempo, insieme al Praia Tortora la testa della classifica a 26 punti. Si è formato così un terzetto che dà l'impressione di potersela giocare fino alla fine per la vittoria di questo campionato. Eppure non è stata una partita semplice per la squadra di mister Aloisi, perché dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo con Sifonetti, al 22esimo al secondo tempo è stata raggiunta dal pareggio di conversi, una Promo Sport che ha ritrovato anche Caturano, ha ritrovato Fabio, quindi una squadra ben messa rispetto ad altre partite precedenti e che ha dato filo da torcere alla neocapolista. Poi come dicevamo il gol di Rizzo ha messo un po' le cose a posto per la squadra di casa e c'è stata anche la bravura del portiere Vulcano che nel recupero è riuscito davvero a parare un tiro bellissimo su calcio di punizione della Promo Sport mantenendo così il 2 a 1 finale.